dici di no se non è piena non esce sergio vado toccalo dentro io vado è piena io ho finita sono andato in riserva qua ho fatto il pieno ma perché la deve deve usarla così che consuma meno di traverso bravo come me vedi uguali identici poi sembra che vada ciò che è piuttosto che niente la grappa stasera la grappa va con quella la stessa e non siamo andati prossima volta bravo giusto lì che dopo è tutta discesa un po brutta ma è tutta discesa il il lì 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 Grazie a tutti.